Qui adesso siamo in una zona particolare, dove si avviene una manifestazione di acque sulfure che vengono dalle profondità della terra, acque che escono alla temperatura costante di 24 gradi tutto l'anno e riempiono la cupola e la volta di questa sala permettendo la vita alle colonie di solfobatteri, colonie di solfobatteri che riconosciamo qui sotto forma di questi esili i filamenti che sembrano di cotone. Questa sala l'abbiamo chiamata sala della neve proprio perché le bolle degli autorespiratori si staccano dal soffitto dei flocculi, dei flocculi che fanno un effetto nevicata, un effetto nevicata che è caratteristico e particolare come potete vedere. Sì. 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 Grazie a tutti.